Assessore De Angelis, dopo l'allarme di ieri del consigliere Marietta Tidei, chiediamo che cosa è successo per HCS e cosa è successo per il Comune. Sono stati ignorati questi conti correnti, sì o no? Ma non è stato fatto nessun pignoramento sui conti correnti. Non è stato pignorato nessun conto del Comune di Cirecchia, semmai c'è stato un tentativo che è stato risolto, come è stato detto in conferenza stampa, c'è stato un tentativo da parte della MAD di vedere tutelati i propri interessi, facendo un pignoramento presso terzo, cioè sui nostri conti correnti, ma soltanto per le somme dovute nei confronti di HCS, non sui nostri conti correnti, non c'è nessun giudice che viene a gestire i nostri conti correnti. Ecco, lei ha sottolineato anche il fatto che il Comune non è in discesso finanziario. E continuiamo a ripetere questa storia, e va bene. Noi siamo un Comune che mai come quest'anno e come nel 2010 sta onorando i propri pagamenti. Poi ci sarà un resoconto nelle prossime settimane di tutti i problemi che sono stati risolti attraverso il sborso di liquidità. Quindi problemi che venivano dal passato e che abbiamo sanato. Il Comune non è in assoluto discesso finanziario. Abbiamo la notizia che abbiamo dato in conferenza stampa. Noi al 31 dicembre del 2011 abbiamo pagato tutte le nostre ordinanze di liquidazione relative alle spese in conto capitale. Grazie. Grazie. Grazie.